Salve a tutti da Giussi, oggi preparo una crema di mele e goji. Gli ingredienti che ci occorrono sono 300 g di mele tagliate a pezzi, 40 g di bacche di goji, 80 g di acqua, 3 gocce di essenza vaniglia e 20 g di amido di mais. Andiamo a preparare. Nel boccale metto le mele e le bacche di goji. Azione il bimbi, 10 secondi, velocità 10. Riunisco sul fondo, Riunisco di nuovo sul fondo. Aggiungo l'amido di mais, l'acqua e le tre gocce di essenza vaniglia. Azione il bimbi, 7 minuti, 90 gradi, velocità 3. Riunisco ancora sul fondo. Azione il bimbi, 10 secondi, velocità 10. La crema adesso è pronta. La vado a versare in un contenitore. Ed ecco pronta la mia crema di mela e goji. Alla prossima ricetta. Ciao! Ciao!